ciao mi chiamo andrà cerrato e faccio il canta youtuber so che vi starete chiedendo ha smesso di pagare l'affitto quindi è stato sbattuto fuori di casa ed ora è costretto a girare a zonzo per il mondo mendicando con la sua chitarra beh so che vi stupirete ma la risposta è no perlomeno non ancora in realtà oggi stavo per registrare l'italiana che sto per eseguirvi quando guardando fuori dalla finestra ho detto wow che spettacolo vive veramente in un posto meraviglioso quindi ho detto visto che c'è un bel tempo un po freschino ma comunque come dire molto suggestivo perché non fare quest'italiana in esterna anche perché si sposa bene con il pezzo che sto per eseguirvi quindi è meglio che ve lo faccia prima che mi si spezzino completamente le falangi e il loro colore diciamo che non promette benissimo quindi signore e signori ragazze e ragazzi ladies and gentlemen afterglow di Ed Sheeran in versione italiana ferma il tempo è stupendo come sole danza dolce sopra di te di rosso e toro risplende l'immagine il giorno sta scomparendo ma c'è un riflesso della luce nel caffè ed il mio sguardo si è perso senza un perché ubriachi un po' di quel miracolo sulla neve ancora per un attimo così soli in mezzo a una terra magica non starai in silenzio mentre te ne vai resterò con te finché mi vedrai brucieremo insieme luce nell'oscurità il tempo fuori cambia e c'è un mantello bianco steso intorno a noi e la radio che passa e la radio che passa iron and wine è un'altra dimensione è come se di un tratto tutto quel che c'è scomparisse all'istante restiamo io e te ubriachi un po' di quel miracolo sulla neve ancora per un attimo così soli in mezzo a una terra magica non starai in silenzio mentre te ne vai resterò con te finché mi vedrai brucieremo insieme luce nell'oscurità fino al tramonto io resisterò fino al tramonto io resisterò direi che ci siamo quasi al tramonto e comincia a fare veramente freschino non so se si veda la condensa ma per il buon ed e soprattutto per tutti voi questo ed altro spero che l'italiana vi sia piaciuta sempre che non lo siate già mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina per sapere quando esce un nuovo video direi che è tutto ora mi godo un po' di pace alla prossima grazie a tutti 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 grazie a tutti